Vallo della Lucania, Salerno. Da oggi 21 al 27 novembre 2024, l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in collaborazione con la Fondazione Onda e le UOC di Cardiologia, Medicina d'Emergenza Urgenza e Pediatria, promuove l'iniziativa rivolta alle donne vittime di violenza e ai loro figli, spesso invisibili testimoni di abusi. Una settimana dedicata alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Le visite si terranno presso l'ospedale San Luca ogni mattina, dalle 09 alle 13, e saranno completamente gratuite. L'obiettivo è duplice. Fornire un supporto concreto a livello medico e psicologico e contribuire al recupero della dignità, dell'identità di genere e del concetto di salute delle donne e dei bambini coinvolti.